A casa delle emergenze, è stato stato un risultamento barriaco. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. A causa delle emergenze, è stato pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. A causa delle emergenze, è stato attivato il risultamento barriaco. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. A causa delle emergenze, è stato attivato il risultamento barriaco. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco. O manca qualcosa o sto sbagliando tutto. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. A causa delle emergenze, è stato attivato il risultamento barriaco. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. Gli indirati sono pregati di votare la testa del blocco fino al termine dell'evacuazione. A causa delle emergenze è stato attivato un risultamento barriaco. Grazie a tutti Grazie a tutti Sono le fonti energetiche Grazie a tutti 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 E' qui che li producono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti